Giudice, angolo Bars e Allen, livello D, probabile autista ucchiato, forse necessita assistenza. Scenda dalla vettura, prego. Scusi, qual è il problema adesso? Scenda dalla vettura. Documento, prego. Mi ha sentito, documento. Signor Susan, la sua patente è sospesa. Tre verbali per guida in stato di ubriachezza. Ehi, senza mia scorta, le consiglio per il suo bene di andare a sfottere qualcun altro, ok? Io ho amici potenti, veramente potenti. Hershey, qualche problema? No, no, Dredd, me la cavo da sola. Patente è sospesa, tre guide a rischio. Adesso non avete seccato. Ok, quant'è la multa? Avanti, quanto mi costa questa storia? Di quanto vuoi. Hershey, chiama il carro a trezzo. Che? Non è possibile. Volete portarmela via? Primozione per la prima violazione. Questa è la quarta violazione. Come ti dichiari? Non colpevole. Affermazione prevedibile. Ehi, aspetta un attimo, che stai facendo? Granato. Granato. No! Alla revisionare. Delicato. Giudice Joseph Threatt. Threatt, sei in arresto. Qual è l'accusa? Omicidio. Perchio. Viadasso? Perchio! Grazie a tutti! Grazie.